Ritorna alla Fiera di San Nicola. Dal 9 al 12 settembre a Pesaro, espositori di ogni genere, prodotti tipici, enogastronomia, artigianato e tanto altro. Un appuntamento irrinunciabile per gli amanti di fiere e mercati. Un'occasione unica per il tuo shopping. Fiera di San Nicola, lungomare di Pesaro, dal 9 al 12 settembre. La fiera più grande del centro Italia. Vietato non esserci!